Nel mercato valutario si torna a comprare dollari? Cosa fare con gli indici di borsa e con le azioni italiane ed americane? Vediamo cosa ci dicono i protagonisti di House of Trading. Oggi ho scelto due azioni, e lo dico già ora che sono short su ambe due, sono legate al mondo delle materie prime. Una è la prima, quella italiana, Eni, ed è un'operazione già che avevo proposto qualche settimana orsono, questo è il grafico di Eni. La prima volta che l'avevo proposto short era in questo periodo, ha fatto un primo movimento ribassista, correzione. Siamo supportati su dei livelli, quelle che sono poi delle resistenze molto importanti, comprese fra i 13 e 75, 13 e 90, sono delle resistenze non banali. Però, insomma, guardavo anche come si muoveva oggi, in particolar modo sono andato a vedermi anche il grafico su base settimanale. E cosa vorrei fare? Vorrei provare a riportare il titolo a un nuovo test di questa trendline rialzista, la vedete, con i minimi dell'ottobre 2020, con i minimi del fine settembre del 2022. È stata toccata anche con i minimi di quest'anno, visto il corposo recupero che c'è stato, visto l'insieme di cose legate anche alle quotazioni del petrolio. Beh, sono andato a proporre una strategia 13.54.2 come ingresso al ribasso, stop 13.93, di fatto sopra questa serie di massimi si vede meglio sul grafico daily, quello che sto utilizzando a un weekly, target 12.20 sostanzialmente in prossimità di quest'area, anche andando a vedere il grafico mensile si capisce meglio quello che è l'operazione, sostanzialmente si vuole sfruttare questo box che da diverso tempo nella parte alta fa la resistenza e provare a vedere se si torna verso la trendline. Questa era l'indicazione sul grafico mensile, sul grafico giornaliero, ecco, il livello che ho selezionato non è null'altro che il minimo di giornata dello scorso 8 di maggio di ieri, lo stop invece sopra questo massimo della 25 di aprile che è stato anche il punto più alto raggiunto le quotazioni nell'ultimo periodo. Questa è la strategia che ho proposto. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie a tutti.